E' una toppa peggiore del buco quella che il presidente della regione Frattura, il senatore Roberto Ruta e l'onorevole Danilo Leva hanno tentato di mettere ad una vicenda che più passa il tempo e più assume i contorni del giallo. Parliamo della governance della ex cattolica o meglio dello sbandierato passaggio ad una gestione pubblica regionale della fondazione privata Giovanni Paolo II. La notizia divulgata dai tre esponenti politici è che, contrariamente a quanto affermato nei giorni scorsi dai vertici dell'Università Cattolica e della fondazione, tra le parti vi sia stato un contatto e una interlocuzione sulla questione governance e che il tutto sia sfociato in un parere della cattolica alla regione. Così non è, ma andiamo per gradi. Quale sia il contenuto di questo parere, i tre registi del brivido non lo rivelano, limitandosi a diffondere uno scambio di mail col direttore amministrativo dell'Università Cattolica Marco Elefanti, messaggi dai toni confidenziali e da trattoria di campagna. Il parere, Frattura, Ruta e Leva al momento lo tengono segreto e nascosto nel cassetto. Il dubbio legittimo è che la risposta contenga più dubbi e perplessità sulla praticabilità dell'operazione che certezze. Non a caso sono gli stessi Frattura, Ruta e Leva a parlare nella nota diffusa alla stampa della necessità di un approfondimento giuridico sulle perplessità sollevate. La cosa tuttavia più grottesca e inquietante è che i tre politici targati PD vadano a chiedere in maniera del tutto privata un parere ad un soggetto che non ha alcun titolo per rilasciarlo e nessun potere decisionale. Elefanti è incaricato infatti nell'ambito dei piani operativi della ricognizione e quantificazione del debito che intercorre tra Regione e Cattolica. Punto e basta. Nulla più. Ed è qui che la buca che Frattura, Ruta e Leva vogliono coprire con una toppa ridicola diventa una voragine. Sulla base di un parere che nessuno conosce, rilasciato da un soggetto che non ha alcun titolo e probabilmente in via confidenziale visto il tono delle conversazioni i tre vendono ai molisani una patacca contrabbandata per panacea di ogni male la governance pubblica della ex Cattolica un percorso che nessuno dei vertici istituzionali della struttura ha ufficialmente esaminato, studiato, voluto e deliberato. Insomma, mentre il giallo continua, una cosa è già certa. Ogni volta che i nostri governanti varcano la porta della sala stampa la verità esce immediatamente dalla finestra.